Vado via con un solo rammarico, di non aver provato la racchetta, perché a me piace provare tutto, nonostante l'età sono ancora molto curioso e oggi mi sono divertito, come ho detto mi sono divertito tantissimo a vedere la rapidità dei movimenti, ma al tempo stesso anche questo volano che sembra essere impazzito all'inizio e poi si ferma di colpo, quindi la rapidità dell'atleta a decidere quello che deve fare. Questo mi ha divertito tanto e mi interessa capire anche il tipo di preparazione, penso che avrò modo di tornare perché mi affascina davvero. E poi fatemelo di un complimento al Presidente e a tutta la vostra struttura, ho visto un campionato che mostra qualità, quindi vuol dire che c'è una base solida e questo fa ben sperare come comitato olimpico per le qualificazioni olimpiche. Non cadiamo nella retorica, da scaramantico e napoletano in bocca al lupo e andiamo a vincere.